Come abbiamo applicato i principi del case-based reasoning al problema di proporre delle proposte di investimento personalizzate per l'utente? Quindi torniamo allo scenario di prima, abbiamo un utente che vuole investire del denaro e vediamo in che modo abbiamo implementato quei 5 passi che sono previsti dal case-based reasoning. Il primo passo è in che modo modelliamo l'utente, abbiamo discusso con l'azienda, abbiamo discusso con Object Way su come poi di fatto andare a modellare l'utente che doveva ricevere raccomandazioni e abbiamo individuato un primo insieme di 5 feature di base che andassero a descrivere ciascuno degli utenti, quindi profilo di rischio, esperienza finanziaria, istituzione finanziaria, obiettivi di investimento, obiettivi temporali e così via. Alcune di queste informazioni sono state ricavate chiedendole esplicitamente agli utenti, altre sono state ricavate in modo automatico, ad esempio il profilo di rischio viene recuperato utilizzando dei questionari standard che si chiamano questionari MIFID. Oltre a questo abbiamo anche utilizzato features di tipo demografico, abbiamo fatto vari esperimenti per capire quale fosse il set ottimale di caratteristiche che andassero a descrivere l'utente. Sulla base di questa modellazione poi siamo passati al secondo passo, perché abbiamo fatto questa cosa qui? Perché normalmente senza un recommender system la cosa che sarebbe avvenuta è che l'utente avrebbe ricevuto come suggerimento quelli che si chiamano portafogli modello, che sono dei portafogli standard che sono associati al profilo di rischio di quell'utente. Nel nostro caso invece, utilizzando un recommender system, la cosa che abbiamo fatto è stata quella di dare la possibilità al promotore finanziario di ritagliare la proposta di investimento vedendo in che modo delle proposte simili sono state suggerite in passato ad utenti simili. Quindi siccome c'è questo concetto qui degli utenti simili o delle proposte simili, chiaramente il secondo passo che abbiamo dovuto gestire è stato quello di trovare di fatto queste situazioni, questi casi simili tra tutto ciò che abbiamo già risolto in passato. Quindi il problema in questo caso è in che modo calcolare la similarità tra gli utenti, anche qui non entro nel tecnico, non entro nel merito delle soluzioni che abbiamo preso in considerazione, però molto intuitivamente abbiamo scelto di utilizzare una rappresentazione di tipo geometrico, dove sulla base delle feature che descrivevano tutti quanti gli utenti, gli utenti vengono rappresentati come punti di uno spazio vettoriale e poi abbiamo utilizzato delle misure di similarità che lavorassero in questo spazio per capire di fatto quali fossero gli utenti più simili a quello che doveva ricevere i suggerimenti. Ripeto, molto intuitivamente c'è la case base con tutti quanti gli utenti, l'idea è che a ciascuno di questi utenti venga poi associato uno score di similarità, chiaramente quanto più vicino ad uno, quanto più l'utente è simile. A questo punto l'idea è quella che gli utenti con degli score di similarità più alti sono quelli che vengono chiamati neighbor, cioè sono i vicini, quelli che noi prendiamo in considerazione per generare questa proposta di investimento personalizzata. Sulla base di quelli che sono i portafogli che in passato sono stati suggeriti a questi utenti simili noi generiamo questi che abbiamo chiamato nel nostro modello portafogli candidati, cioè sono i portafogli che sono stati suggeriti agli utenti simili a quello preso in considerazione. Questa che vi ho fatto vedere però è una estrema semplificazione perché abbiamo 4 utenti nella case base, 2 di questi vengono etichettati come simili, però in realtà in uno scenario reale la situazione è molto diversa. È molto diversa perché tipicamente non ci sono 4 utenti nella case base, ce ne sono molti di più e le soluzioni candidate non sono 2 ma sono molto di più. Quindi abbiamo bisogno di qualche meccanismo che ci permetta di riordinare o comunque di filtrare quelli che sono tutti i portafogli candidati per riuscire a individuare quelli di fatto da prendere in considerazione. Anche qui abbiamo valutato, preso in considerazione tante strategie, vi faccio vedere molto rapidamente quelle che hanno funzionato meglio tra quelle che abbiamo valutato. La prima idea è stata quella di dare all'investitore delle proposte quanto più diversificate possibile tra di loro. Nel secondo caso abbiamo definito una misura che si chiama Financial Confidence Value, il cui scopo è quello di riordinare i portafogli mettendo più in alto quelli più promettenti. Nel caso della diversificazione l'idea, ripeto, come dicevo è molto semplice. L'obiettivo è quello di eliminare proposte che sono troppo simili, troppo vicine tra di loro. Come abbiamo fatto, ripeto, non entro nel merito, però l'idea è quella di trovare tra tutte quante le proposte di investimento che sono etichettate come soluzioni candidate, quelle che sono sufficientemente simili ma allo stesso tempo diverse tra di loro. Quindi abbiamo cercato di trovare il sottoinsieme di casi simili che massimizzasse la diversità. Nel caso invece del, nel secondo caso, il Financial Confidence Value, l'obiettivo è stato un po' diverso. In questo caso l'idea non è quella di eliminare delle soluzioni, ma l'obiettivo è quello di riordinarle. In che modo? L'idea è quella di riordinarle sulla base di quello che in passato è stato l'interesse che ciascuno di quei portafogli ha generato. Quindi il Financial Confidence Value è uno score che noi associamo a ciascun portafoglio sulla base dell'interesse complessivo che ha generato in passato. Questa qui è la formula, è l'unica di tutta la presentazione. Financial Confidence Value di un portafoglio finanziario non è altro che l'interesse complessivo generato dal portafoglio, che è il prodotto tra la percentuale di un asset class e l'interesse che quell'asset class ha generato, con un drift factor, che non è altro che il rapporto tra l'interesse generato dalle asset class nel portafoglio e l'interesse generato dalle asset class che non sono nel portafoglio, ma sono disponibili. Quindi molto intuitivamente se questo score è uguale a 1, in questo caso il logaritmo è 0, quindi non fa alcuna differenza, quindi significa che le asset class nel portafoglio rendono esattamente come quelle che non sono nel portafoglio. Se le asset class nel portafoglio vanno meglio delle altre, questo rapporto è maggiore di 1, quindi funziona come un fattore di boosting, cioè da un peso maggiore, uno score complessivo maggiore al portafoglio, perché significa che le classi nel portafoglio vanno meglio di quelle che non ci sono, viceversa da uno score più basso, perché significa che ci sono delle altre asset class che invece si comportano meglio di quelle che potremmo suggerire all'utente. Questo qui è un esempio di come funzionerebbe, quindi abbiamo delle asset class, azionare Europa è un asset class che si è comportata molto bene in passato, siccome è una percentuale molto alta in quel portafoglio, possiamo assumere che sarà quello poi di fatto ordinato per primo. Gli ultimi due passi li riassumo molto rapidamente, sono lo step di review in cui poi una volta che è stata individuata una soluzione candidata da parte del promotore finanziario c'è una discussione tra l'investitore e il promotore finanziario per magari modificare leggermente quelli che sono gli score che noi andiamo alle percentuali di ciascun asset class nel portafoglio. Infine l'ultimo passo è quello di retain, di questo ciclo di case based reasoning in cui noi semplicemente cerchiamo di capire quanto questa soluzione si sia comportata bene oppure no. Quindi in questo caso prendiamo in considerazione ad esempio l'interesse che poi ha generato in futuro quel portafoglio finanziario e se si è comportato bene lo teniamo nella case based in modo tale da riutilizzarlo in futuro per risolvere casi simili e viceversa lo andiamo ad eliminare. Questo è quanto, questa è l'idea, questa è la metodologia che c'è dietro. Funziona? È quello che abbiamo cercato di fare con gli esperimenti, di valutare con gli esperimenti. Ci siamo chiesti due cose, quanto ci fanno guadagnare questi portafogli e soprattutto siccome ci interessa l'intelligenza artificiale abbiamo provato a capire se le raccomandazioni generate dal sistema sono migliori di quelle che ci dà l'umano, di quelle che ci dà il promotore finanziario. Con due slide vi faccio vedere alcuni dei risultati più rilevanti. Da questa prima slide emerge che utilizzando cinque portafogli candidati abbiamo un interesse medio mensile utilizzando il sistema dello 0,28%. Questo valore l'abbiamo poi confrontato con delle baseline come un recommender collaborativo, un classico recommender e con i suggerimenti generati dall'umano. Quello che emerge è che entrambe le tipologie di recommender, quindi sia il collaborativo ma soprattutto il case based reasoning, sono in grado di generare delle proposte di investimento migliori o comunque che generano un interesse migliore rispetto a quelle che avrebbe generato l'umano. L'ultimo esperimento che abbiamo fatto è quello forse più interessante perché questa valutazione qui è stata fatta sul passato, cioè abbiamo cercato di guardare nel passato e vedere quanto quella proposta di investimento avrebbe generato. Nel nostro terzo esperimento abbiamo invece fatto una valutazione ex post, cioè abbiamo simulato in questo caso che la proposta di investimento venisse effettivamente fatta in un certo momento e abbiamo visto da quel momento in poi quanto interesse generano le varie proposte. Anche nella valutazione ex post, fatta su un intervallo temporale di sei mesi, fatta su dati reali, abbiamo avuto questi risultati qui che hanno ulteriormente confermato il fatto che le nostre proposte di investimento basate sull'utilizzo del case based reasoning sono in grado di generare dell'interesse che è molto più alto rispetto alle proposte di investimento che sono suggerite sia da un recommender collaborativo ma anche da un promotore finanziario umano. Infatti la differenza è dal 0,06 del promotore finanziario umano allo 0,06 che possiamo ottenere con il nostro sistema. Quindi queste qui sono le conclusioni, abbiamo fatto vedere un'applicazione del case based reasoning per la personalizzazione delle proposte di investimento, abbiamo mostrato delle tecniche di diversificazione e re-ranking in questo scenario e abbiamo fatto vedere con gli esperimenti che i portafogli finanziari che il nostro sistema può suggerire sono significativamente migliori di quelli che possono suggerire sia altre tipologie di recommender sia dei promotori finanziari umani. C'è anche una demo a disposizione se volete darci dei soldi. Grazie.